Aveva 37 anni Alberto Villani, era un intermediario finanziario di Pavia. Il suo corpo è stato trovato a Tlaltizaplan, cittadina a 100 km da città del Messico, messo in un sacco di plastica dopo essere stato ucciso con due colpi di pistola alla testa. Lo riporta alla provincia pavese, secondo la quale a fianco del corpo è stato trovato un cartello con su scritto «Questo mi è successo per essere un ladro». Alberto, che era nato a Valencia, si trovava spesso in viaggio per lavoro, soprattutto nei paesi di lingua spagnola. Tragica fine anche per l'altro italiano del quale si erano perse le tracce ad Istanbul, Alessandro Fiori. Il cadavere del giovane manager di Soncino, Cremona, è stato ritrovato col cranio fracassato in una zona centrale della metropoli turca. Risiedeva a Milano, da dove era partito lo scorso 12 marzo. Due giorni dopo, le telecamere di videosorveglianza lo avevano ripreso ad Istanbul lungo la strada che conduce al Consolato Italiano. Il suo telefono e il portafogli con i documenti erano stati ritrovati in un cestino dell'immondizia dell'albergo dove aveva alloggiato. Il padre, sicuro fin dall'inizio che non si trattasse di un allontanamento volontario, si era rivolto anche a chi l'ha visto e all'analoga trasmissione della televisione turca. I carabinieri di Soncino hanno avviato un'indagine insieme ad Europol e Interpol.